eccomi 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 buonasera amici amiche rossoneri ragazzuoli ragazzuole belle buona serata di questo nuovo anno di questo nuovo mercoledì di questa serata di mercoledì 3 gennaio 2024 che ore sono sono ore 18 e 31 ore 6 e 31 vi abbraccio ovunque voi siate sia che state in cucina per cucinare guardare la tv piuttosto che destra manca e compagnia cantante vi abbraccio tutti ragazzi forza mila sempre comunque ovunque dopo la bella vittoria di ieri però voglio non voglio raggelare i facili entusiasmi oppure le grandissime idee di pochi di voglio contati ieri due in due hanno scritto questa cosa in due sotto il video di ieri reaction dopo milan cagliari degli ottavi di coppa italia che subito alcuni lo ripeto pochi pochissimi proprio una percettuale proprio dell'1% hanno i facili entusiasmi di aver scritto e di pensare ah se la proprietà questa proprietà della cippa avesse dato una grande squadra a pioli pioli avrebbe vinto anche la champions o compagnia cantante allora prima di tutto io lo ripeto per l'ennesima volta anche se pioli avesse vinto scudetto e champions per me se ne deve andare perché quattro anni e passa per un allenatore sono troppi seconda cosa lui non è mai riuscito in tempi non sospetti cioè dal 2019 non è mai riuscito a tirarci fuori dei guai da partite difficili contro squadre difficili e voi che vivete di facili entusiasmi lo dico a voi tifosi rossoneri eruditi e voluti che però quanto pare di calcio non ci capite ne merita mazza voi praticamente vivete di facili lo ripeto facili entusiasmi pensate che la squadra di ieri il Cagliari era una grande corazzata la squadra di Claudio Ranieri era una grandissima corazzata con un portiere che faceva passare praticamente qualsiasi palla sotto praticamente il suo braccio tra il braccio e il dorsale le faceva passare tutte siamo un po' onesti abbiamo fatto la partita ma la difesa del Cagliari e il portiere del Cagliari penosi completamente per cui la partita non fa testo e come dice il mio follower ma non è che c'è bisogno che il mio follower me lo dice questo qui va bene questo mio follower me lo scrive è uno che vive di pane pessimismo dalla mattina alla sera ti mando un abbraccio per amico te vivi troppo pessimismo mi raccomando io non sono un pessimista pessimista va a quel paese a parlare di Pioli scusate sistemo la cam mi va in bambola tutto praticamente parliamoci molto chiaramente il lupo perde il pelo ma mai il vizio voi pensate voi ben pensanti pensate che Pioli è un grande allenatore non ci avete capito nulla di calcio bene sono partito subito in tromba con questo breve video i protagonisti sono due uno è questo brassier del brest che non so non sapevo neanche chi fosse e non sapevo neanche che esistesse sul pianeta terra come difensore e l'altro protagonista di questo video era de crunic però in realtà ci doveva mettere anche terrazzano e adesso ce lo metto subito terrazzano bene allora perché il milan sembra interessato ma per me questo non verrà sembra interessato a brassier del brest di questa squadra di questo ragazzo di questo ragazzone vabbè insomma a livello fisico normale come terracciano e guarda caso è alto come terracciano un metro 86 però è un po più grande di terracciano perché terracciano va verso i 21 anni un grande acquisto questo lo devo dire vi voglio ripetere che per il verona sono arrivati quelli della guardia di finanza commissariale tutto tutto quanto c'è il casino col presidente proprietario del verona che è un disastro ecco perché il verona vende tutti no perché uno di voi ieri mi scrive ma il verona ormai vende tutti è obbligo che abbiamo ma allora voi 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 siete voi siete forti vedete questo video e se pensate che io ho detto una castronerina andate subito a controllare su internet su googleando cercando facendo disfando e poi venite qua a fare i sapientoni lo so come siete voi ma lo dico in senso benevolo non malevolo nei vostri confronti dico solo che il mio sottoscritto c'è tutto qua scritto nel computer c'è il crescetto che sta frullando come un pazzo però ragazzi parliamoci molto chiaramente certe notizie sono scontate non c'è neanche bisogno che io le spieghi in video ma adesso tutte le volte in ogni video devo spiegare anche le virgole tante cose sono scontate non sapere che il verona ha dei guai in questo momento pazzeschi finanziari come fai a non saperlo dove vivi su marte vivi su marte vivi su marte mamma mia ragazzi allora il discorso è questo avendo tutti questi problemi devono far fuori i loro pezzi pregiati tracciano un'opportunità però ieri vi ho detto tra i 4 5 milioni di euro d'amico forse ce lo porta dal verona al minan però in realtà si viene a sapere che la cifra è superiore te pareva e praticamente si parla già di una cifra molto più alta che rasenta quasi 10 milioni di euro questo qui invece questo brassiere del brest che non so chi sia è un ragazzo di origine africane nazionale francese lui è francese nato in francia gioca nel brest un metro 86 difensore centrale piede sinistro io lo ripeto non so neanche chi cavolo sia questo non ho visto neanche il suo video non ci ho avuto tempo e vi dico la verità non ho neanche voglia di vederlo questo qua in video sapete perché perché di questo brassiere del brest non me ne frega niente quando le cose saranno quasi fatte andrò a informarmi quando moncada se lo prenderà se lo prenderà perché per me è un pistaggio potrebbe essere che rimane simici in prima squadra e praticamente cioè ormai gabbia ufficiale lo sapete da ieri sera è tornato qui da noi però non sarà disponibile se non ho capito male subito per la partita che avremo questo fine settimana ma comunque vedremo come saranno le cose per gabbia ragazzi nel senso se non è disponibile adesso sarà disponibile immediatamente dopo tanto lui non deve fare allenamenti di niente non ha fatto neanche la visita medica dai ragazzi cioè abbiamo già gabbia abbiamo simici che è un fenomenale difensore del futuro ma avete visto come sta in campo simici ma cosa me ne frega a me di questo brassiere del brest dai ma questa qui è un'operazione di pistaggio perché comunque moncada ha detto ieri prima della partita di milan cagliari di coppa italia abbiamo bisogno di difensori è chiaro qual è il concetto sì o no e poi magari è facile che invece questo brassiere va a prendere un altro di difensore vabbè comunque ci dobbiamo imbottire i difensori e dobbiamo rimpiazzare possibilmente il pobega che ormai ha già finito la stagione dai ragazzi pobega ha già finito la stagione punto a capo un disastro su tutti i fronti e mi voglio ricollegare quello che il turbo che ho acceso in questo video per iniziare non per smontare le idee degli altri di voi altri pochissimi ma veramente pochi o raffreddarvi completamente perché avete il diritto di dire tutto quel cavolo che volete ci mancherebbe però ragazzi come si fa a dire per una partita per una partitella contro un cagliari inesistente adesso piole ma non ti vergogni questo qua piole il suo staff ci ha rovinati letteralmente beh adesso siete veramente a voi vi basta ad alcuni alcuni pochissimi la percentuale un per cento due per cento massimo vi basta una piccola vittoria un'altra vittorietta contro squadrette così tranquille senza offrire voi al calcio ma che ha fatto proprio pena subito per grandissimi fenomenali sia piole verso dato una grande squadra avrebbe vinto anche nell'universo voglio vedere piole contro real madrid contro il barcellona contro il bayern di monaco contro il minister city contro l'arsena contro l'astonville contro l'inter di adesso ancora nel prossimo derby voglio vederlo io non è che sto gufando nei confronti di austromina sto dicendo chi è pioli a me pioli di quello che fa da adesso ma anche da prima due mesi fa quando ho iniziato a contestarlo a capire che ci avrebbe rovinato ma io già l'avevo capito due anni fa chi mi segue da tempo lo sa per me ormai come non esistesse più pioli per me non esiste più pioli auto tutta la vita basta anche se vince contro il juventus contro lì è finita basta ma lo sa già anche lui voi non avete neanche intuito nessuno me l'ha scritto della faccia di pioli davanti ai microfoni dei giornalisti ma non avete visto come è cambiato ma c'è una faccia che è tutto un programma ragazzi ve lo sta dicendo ve lo sta dicendo la mia esperienza qua è finita punto dai andiamo avanti su che a me non me ne frega più niente di pioli andiamo avanti allora cosa sta succedendo con crunic l'avete detto nel titolo vabbè mira su questo bresiere però vabbè bisogna vedere se sarà fattibile questa cosa e lo dico lo ripeto a me di sto giocatore non me ne frega niente se verrà allo studio e auguri a lui se verrà al mina speriamo che faccia bene ma di questo crunic ne vogliamo parlare beh insomma crunic si è messo di traverso allora lui praticamente è fuori rosa paghiamoci chiaro ma lo vedete non entra più in campo né niente nonostante stia bene nonostante c'è l'emergenza di tutti e di tutti i traumi fisici dei nostri giocatori c'è un disastro colossale lo staff di pioli abbiamo lo sappiamo tutti però crunic si è messo di traverso praticamente perché perché il mina sperava sia venuto a sapere oggi a livello di fonti varie fonti giornalistiche sportive che lui non è entusiasta di entrare della panchina ma doveva entrare come titolare soprattutto batte ancora al ferro con il milan ma mi aumentate lo stipendio me lo raddoppiate bene i suoi agenti sono uno che è sempre stato berti adesso sapete che si è aggiunto come agente di crunic un certo kolarov per cui ragazzi il milano ha già fatto sapere una cosa a kolarov e a berti i suoi due agenti di crunic che loro devono portare un'offerta concreta in soldoni al milan e non fare il furbetto del quartiere a fare quello che mugugna rilancia per il suo stipendio che vuole il doppio tutto il resto perché ha perso ha perso l'occasione di andare a fenerbaccio quest'estate attenzione attenzione per cui il milan dice o ci portate i soldoni a gennaio tra i 4 e 5 milioni di euro per crunic cartello di crunic o se no a campacavallo questo se ne sta in panchina fino alla fine dell'anno fino alla fine della stagione giusto 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 e ora di finirla questa cosa ma vi rendete conto di cosa sta facendo questo uomo qua crunic di cosa sta combinando ma vi rendete conto di cosa sta combinando questo qua cioè questo qua praticamente ha fatto un semplice discorso normale per lui ma per me non è normale mi hai fatto perdere l'occasione di fenerbaccio di andare in turchia 3 milioni e mezzo di euro netti di stipendio nelle mie saccocce quando al milan ne prendo uno e mezzo un disastro ne prendo due lì in turchia e allora sai cosa faccio allora o tu mi raddoppi lo stipendio oppure io mugugno anche se sei in difficoltà con i giocatori sto lì ma no non sto bene oggi un po di così ripeto lo dico anche gli agenti di crunic adesso vedete questo video le fonti giornalistiche oggi dicono la stessa cosa prendetevola con voi che sia chiaro e comunque questa è una cosa veramente lasciamo pesa gli argomenti di oggi sono questi ragazzi ve lo dico subito ma probabilmente il discorso lo ripeto ancora attaccante vedremo poi magari lo prenderemo campo a cavallo che l'erba cresce saltami addosso per cui il governo ci ha messo bastone tra le ruote che ha creato crescita e gli italiani si va bene va bene speriamo che gli italiani siano bravi lo spero con tutto il cuore e visto che anche oggi poi è arrivata dal governo un'altra bella ammazzata che praticamente se recedi dal dal contratto un contratto di fornitura elettrica prima del tempo se hai fatto un contratto di 12 o 24 mesi a prezzo bloccato praticamente ti arriva una bella penale una bella seraccata qua sul capocollo perché il governo non ha fatto nulla per impedire questa cosa complimenti e andiamo avanti così con questi bravissimi bravissimi stupendi politici che abbiamo io vi mando un abbraccio forza minare sempre comunque ovunque ragazzi io in questo momento sinceramente non vorrei essere posto in moncata perché non è facile fare mercato soprattutto in questa situazione però mai dire mai magari le cose andranno bene anzi vi dico la verità io ho letteralmente lo dico sinceramente una fiducia totale nei confronti di moncata io gli auguro il meglio di sicuro quando gli altri ti mettono il bastone tra le ruote non è facile qui si parla di crunici del giocatore si parla di un governo che ti mette questo insomma non è mai facile però ragazzi vediamo vediamo come andranno avanti le cose è sempre uno spettacolo si dopo ieri uno spettacolo però è con calma ciao